Benvenuti in una nuova puntata di intrighi e tradimenti in quel di casa Milan. Oggi ha parlato il vicepresidente, presidente onorario, che cazzo è, non lo so neanche io, Scaroni, conosciuto meglio come Stadioni, e anche in questa intervista ovviamente afficcato dentro lo stadio. Prima di iniziare però ragazzi vi chiedo sempre il vostro supporto, like al video, commentate e condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale, sono gesti proprio veloci, rapidi, li potete fare mentre mi ascoltate, like al video, iscrizione, correte di iscrivervi anche a due canali amici, dove bette, io, cp, osef, con cui condividiamo l'angolo rosso-nero ragazzi. Andatevi a recuperare la diretta di ieri perché veramente c'è stato un momento tragicomico, di irrisate, incredibile, non riuscivo neanche più a parlare, vi sono dovuto nascondere dall'inquadratura. Detto questo ragazzi, cosa ha detto Stadioni Scaroni? Allora innanzitutto, parlando brevemente dello stadio, stanno facendo un progetto per la zona San Donato, accanto a Nato Sesto San Giovanni per gli elevatissimi costi di bonifica, si aspetta che in qualche modo il sindaco Sala dia l'ufficialità di questo vincolo di San Siro e quindi dell'incapacità di Milano Inter di abbatterlo. Detto questo, onestamente preferirei anche perché già, secondo me, Adriano Gagliani, qualora anche l'Inter poi in futuro decidesse di andarsene, secondo me San Siro lo chiede il Monza, ho questa sensazione. Così, il Milan, onestamente, la casa del Milan, lo stadio del Milan, tutto rosso-nero, è il sogno che ho fin da piccolo, come ormai hanno tutte le grandi squadre d'Europa. Detto questo ragazzi, non è il video per parlare di stadio. Cosa ha detto Scaroni? Cose importanti? Allora, ha detto, ha fatto capire perché delle sonore di Maldini, ovvero nell'ottica della dirigenza parte di Jerry Cardinale, Maldini non lavorava bene in team, voleva prendere le decisioni importanti lui, voleva avere piena operatività di mercato, voleva prendere i giocatori che voleva lui. Nel Milan invece si lavora di team, Jerry Cardinale vuole portare al Milan un'ottica che un po' si avvicina a quelle che sono le grandi squadre d'Europa, perché parliamoci chiaro, in Inghilterra non esiste il direttore sportivo, ok? In Inghilterra esistono figure diverse, come il presidente, che ha un ruolo molto operativo, l'allenatore che diventa coach, come è stato chiamato Pioli, quindi un allenatore che mette bocca sulle voci di mercato, è il capo scout barra DS, una figura che è un po' tutto, tutto, non esiste la divisione di TDS, scusate, direttore generale, direttore sportivo. Vuole portare un po' questa visione, Maldini non lavorava bene di team e ha confermato, senza confermarlo, quello che si vociferava ieri, le seconde indiscrezioni uscite, Maldini voleva cacciare Stefano Pioli a fine anno dopo numerosi battibecchi, sia sulla preparazione completamente toppata a gennaio, sia sul mancato utilizzo dei nuovi arrivi, sia soprattutto sullo schieramento a tre che non veniva condiviso da Maldini, perché metterci a tre quando bastava inserire un centro campista in più, sostanzialmente ragazzi è quello che vi dico io dal giorno 1 di questo anno, ci sono stati errori su errori da parte di Stefano Pioli. Poi ovviamente, fosse vero il fatto che tu volevi cacciarmi Pioli per prendere Pirlo, anche lì, insomma, io alzo le mani, va bene, sono il primo a dire che magari il ciclo di Pioli potesse in qualche modo essere finito, ma da qui a cacciarmi Pioli e mettermi Pirlo, no, no, infatti ho dubbito che Pirlo fosse la scelta di Maldini, però sicuramente non ho dubbi, non ho dubbi che ci siano stati, insomma, degli scontri più o meno duri tra Pioli e Maldini che soprattutto quest'ultimo volesse cacciarlo, volesse cacciare la guida tecnica per affidare il Milan in altre mani. Detto questo ragazzi, ora, noi, ripeto e rinnovo l'invito che ho fatto ieri a tutti, noi non siamo nelle condizioni di criticare la nuova società, perché adesso Moncada, Furlani, li giudicheremo per quello che faranno da qui in avanti, quindi io alzo le mani, sto zitto e aspetto. Sicuramente abbiamo gli elementi per criticare la società, per criticare i cardinali, per come hai cacciato Maldini, perché, ripeto, ho fatto anche uno short in merito oggi, dove ho spiegato in un minuto uscirà alle 18, cosa ne penso della vicenda. Tu, Gerry Cardinale, sei il proprietario che metti i soldi, hai tutto il diritto di dire, ragazzi miei, per me Maldini non li spendeva in maniera adeguata, secondo me Moncada li può spendere meglio, li può far fruttare meglio. Benissimo. Ma da qui, a cacciare il Milan dal Milan, a cacciare Maldini dal Milan, che è il Milan, in cinque minuti, bevendoti un caffè, mandandolo a cagare, scappandotene cinque minuti dopo in America senza dire nulla, allora no. Vuoi cacciare Maldini? Bene. Cacci Maldini, un secondo dopo devi essere a casa a Milan, fai una conferenza stampa, spieghi il perché. Perché fino a due mesi fa, il caro Scaroni, che oggi pisce in testa a Maldini e gli volta le spalle, era quello che diceva, è sicuramente con Maldini e Mastano non ci saranno problemi, c'è un contratto, si lavora in sintonia. Ma chi volete prendere per il culo? Allora tu, Cardinale, vuoi essere un americano con le palle? Va bene. Allontani Maldini dalla società perché non lavoravi di team, perché volevi portare un po' nel Milan una concezione, una concezione di società più internazionale. Porca di quella, buttare un secondo dopo, vai in conferenza stampa e spieghi a noi tifosi a cui devi rendere conto il tuo punto di vista. perché ricordati, caro Cardinale, che qui non è che siamo fan, noi siamo tifosi, il tifoso nella concezione italiana ha un ruolo fondamentale perché se poi i tuoi cari tifosi non ti vengono allo stadio, non ti comprono le magliette, non ti fanno gli abbonamenti, col cazzo che poi riprendi i soldi dal Milan. Ecco, per inciso, e la chiudo qua. Per quanto riguarda, ragazzi, il mercato, io aspetto, ci sono fatti due nomi molto importanti che cito solo perché li ha praticamente citati un grande giornalista come Matteo Moretto che ha anticipato mesi addietro il rinnovo di Leao, ha anticipato anche le cifre a dicembre e gennaio quando tutti dicevano eh no, Leao non rinnoverà, lui già aveva detto che aveva rinnovato 5 più bonus, era sulla giusta via, eccetera, eccetera. Il Milan si è inserito con decisione su due profili e l'antica è Marcos Turam. Per quanto riguarda di Turam, parto subito dal secondo, sarei subito enormemente d'accordo perché uno lo prende a zero, due è un profilo che con quella fisicità in Italia può veramente fare comodo. Lui vuole in futuro giocare da punta centrale, lo ha detto, e soprattutto vuole la titolarità, cosa che il Milan gli può offrire. È vero che il Milan si è inserito tardi, è vero che sul giocatore da tempo c'era l'interesse del Paris Saint-Germain, però è anche vero che se Turam guarda indietro, guarda la vicenda di Renato Sanchez, guarda come è finita, guarda soprattutto al fatto che il Paris Saint-Germain oggi ti dà la titolarità e domani sei in panchina, io due domande me le farei. La seconda cosa è Mandicà, ragazzi. Il profilo di Dicà era stato bocciato a più riprese da Maldini. Ora, non so se Maldini lo avesse bocciato da un punto di vista tecnico o da un punto di vista economico per le commissioni che chiedeva il suo procuratore. E' anche vero però, ragazzi, che su Mandicà poi sta chiudendo la Roma, quindi non è che sta chiudendo il Barcellona, non è che sta chiudendo il Manchester City, non è che sta chiudendo il Paris Saint-Germain, sta chiudendo la Roma con tutto il rispetto. Quindi, facciamoci due domande. Secondo me, il Milan, e ripeto quello che ho già detto nei video passati, perché mi era arrivata questa voce all'orecchio, il Milan ha l'idea di cedere uno tra Tomori e Calulo. Solo così si spiega l'acquisto di Indicà. Si spiega l'acquisto di Indicà se tu scegli Tomori ed indica la titolarità. Sicuramente Indicà non viene al Milan per fare panchina, parliamoci chiaro, e indica il gioco sul centro-sinistra. Quindi, aggiungendo a questo le voci secondo cui Tomori aveva ricevuto in passato un'offerta dal Paris Saint-Germain, un'offerta dal Newcastle, un'offerta dal Manchester United, se tanto mi dà tanto, secondo me, ecco il Milan potrebbe muoversi in questa direzione. Per quanto riguarda, invece, cosa ne penso di indicare, ragazzi miei? Guarda, io sono uno che prima di, se non conosce bene il giocatore, aspetta. Indicalo conosco bene da tempo, devo essere sincero. È anche vero, ragazzi, che il 90% delle presenze le ha fatte come braccetto di sinistra in una difesa a tre. È anche vero che ha giocato qualche volta terzino-baresterno di centrocampo. Ha fatto solo otto volte in carriera il centrale di centro-sinistra in una difesa a quattro. Aspetterei. È anche vero che se sei forte, ti basta un minuto di adattamento e dimostri di essere forte ovunque, no? Tico Silva ha giocato a quattro, ha giocato a tre, ha spaccato i culi ovunque. Quindi, se sei forte, se sei una persona intelligente, tatticamente, ti adatti ad ogni cosa. È ovvio che sarebbe un passo indietro rispetto a Tomori ad oggi, perché, ragazzi, fatevi due domande se le squadre vogliono Tomori e non prendono un D-K a zero. È anche vero che... Non lo so, non lo so. Sicuramente con qualche eccessione il Milan vuole aumentare il budget a disposizione di mercato. C'è chi dice 70, c'è chi dice addirittura 35. Ragazzi, giornalisti non sanno un cazzo che vi vedrà. Vedremo in avanti il budget di mercato che vuole mettere a disposizione criminale Jerry Cardinal. Detto questo, ragazzi, il video per oggi finisce qua. Fatemi sapere, mi raccomando, criticate la società per i modi in cui ha mandato a fanculo Maldini, voltato le spalle a Maldini, pisciato in testa a Maldini. Sono d'accordo, però, ragazzi, da qui a criticarli sul mercato io alzo le mani, sto zitto e aspetto di vedere le mosse che faremo. Vi ringrazio per essere stati qui con me anche quest'oggi. Mi raccomando, che al video commentate, condividete con gli amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Bella raga, buon pranzo a tutti ed un'altra puntata di tradimenti e di intrighi in quel di Casabina è andata. Spero, ragazzi, che comunque sia queste due fazioni la smettono di farsi guerra a vicenda anche dopo l'esonero e soprattutto su Maldini non ho dubbio e mettano prima di tutto la cosa più importante, ovvero il bene del Milan. Perché poi a farne le spese siamo sempre noi tifosi. Buon pranzo a tutti.